Oggi, a lezioni di etichetta, Montana vi racconta la qualità della sua carne in gelatina. La carne Montana proviene da una filiera tutta italiana, con un percorso semplice e controllato. Conosciamo la storia di tutti i nostri bovini, oltre 15.000 allevamenti italiani, migliaia di controlli di qualità e un'attenta preparazione delle carni nel rispetto dell'ambiente e del benessere animale. Una ricetta semplice, magra e gustosa, senza glutammato e senza glutine. Carne Montana. Fatta in Italia. Fatta per bene. Alla prossima lezione.